Buongiorno a tutti, io prima di partire vorrei velocemente ringraziare di nuovo Reine Magazine per il supporto, l'aiuto e la fiducia che quotidianamente dimostrano nei miei confronti. Ma passiamo subito alla presentazione. Ho voluto iniziare con una domanda. Perché siamo qui? Perché vorrei condividere insieme a voi in questa giornata un nuovo approccio e una nuova tecnica, una tecnica particolare, diversa da quelle che magari quotidianamente fino ad oggi avete visto, per la realizzazione di protesi full arch, quindi di protesi complete, di arcata superiore o inferiore, sia in oeste fisse o rimovibili. e ci andremo ad addentrare su quelli che sono i protocolli che io seguo quotidianamente in studio, sia per quanto riguarda la parte chirurgica che per quanto riguarda la parte protesica. Questo anche con l'aiuto di Claudio Sassatelli, il mio tecnico. Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di realizzare dei manufatti che siano il più biomimetici possibili, il più uguali possibili ai denti circostanti, quindi strutture protesiche che si devono andare ad armonizzare coi tessuti circostanti, sia per quanto riguarda un'estetica bianca, che per quanto riguarda un'estetica rosa. E quindi, per quanto riguarda le protesi full arch, dare la sensazione che questa nostra protesi sia in verità realizzata da denti naturali. Qual è il nostro nemico, il nostro problema? Il nostro problema è le dentulia. Le dentulia che porta a tutta una serie di alterazioni, che purtroppo per motivi di tempo non posso qui andare a rinunciare in maniera completa. Ho cercato di focalizzare su quelli che sono i due aspetti più importanti, in particolar modo le alterazioni dei tessuti duri, che portano a un riassorbimento centripeto del macellare superiore, un riassorbimento centrifugo del macellare inferiore, quindi la tendenza a uno sviluppo di una terza classe, perché abbiamo una retrazione a livello del macellare superiore e una riduzione della dimensione verticale, lo vedete infatti molto bene dalle fotografie, con questa distanza tra la punta del naso e la punta del mento che si riduce e si viene a creare quella che viene definita fase sedentula, con appunto una riduzione della dimensione verticale, l'allargamento della rima labiale, la riduzione del vermiglio delle labbra e un approfondimento delle rughe e delle pieghe nasolabiali, nasogeniene e labio mentale. Questo è perché? Perché proprio sull'aspetto psicologico si fonda le linee guida che noi dobbiamo utilizzare nella scelta del tipo di riabilitazione protesica, perché quando noi ci troviamo di fronte a una paziente come quella che vedete sulla sinistra, che tipo di protesi dobbiamo realizzare? Qual è la protesi più indicata? Per quanto riguarda questa decisione, ci viene in aiuto la letteratura. C'è un bellissimo articolo apparso sul Cori nel 2013 della dottoressa Brampou, che tra l'altro ha avuto anche il piacere di conoscere l'anno scorso a giugno al Rain Day, la quale ha valutato insieme al suo gruppo diversi parametri nella scelta del tipo di riabilitazione protesica. E praticamente i due parametri più importanti che praticamente definiscono la scelta del tipo di riabilitazione protesica sono la necessità di fare una flangia, quindi la necessità di andare a sostenere i tessuti molli e l'angolo presente tra il piano clusale e la linea che congiunge la cresta alveolare con il tallone del dente. Ovviamente più questo angolo è piccolo, quindi significa che maggiore è la distanza che c'è tra l'elemento dentario che noi andiamo a posizionare e la cresta alveolare e maggiore è il riassorbimento dei tessuti duri e dei tessuti molli che si è verificato. Così come la necessità di sostenere i tessuti molli e quindi indirettamente la necessità di fare una flangia è direttamente proporzionale alla necessità di fare una riabilitazione di tipo rimovibile. Quindi se io posso montare i denti senza la necessità di fare una flangia mi posso indirizzare verso una protesi di tipo fisso. Viceversa, se devo sostenere i tessuti ho la necessità di fare una flangia, quindi una protesi di tipo rimovibile. E un altro aspetto che io condivido pienamente in questo articolo è la frase che leggete in alto, ovvero che il design della protesi, il tipo di protesi che noi forniamo al nostro paziente non deve essere selezionato in base alle mere decisioni del paziente o del clinico o alle mode del momento, vedi scusatemi il termine, l'all on for, ma deve essere valutato caso per caso in base al nostro paziente, in base proprio a questi concetti estetici che già qualche anno prima negli articoli di Wittmann e Marinello vedevamo inunciati. L'altro, l'aspetto su cui io mi fondo per quanto riguarda la mia attività clinica è il concetto di semplicità, cioè il rendere più semplice possibile le procedure, perché sicuramente se noi semplifichiamo i nostri processi andremo incontro a una riabilitazione o comunque a un risultato più semplice da ottenere che con maggiore difficoltà ci può portare a commettere un errore. Quindi cerchiamo di rendere la nostra procedura il più semplice possibile. Come? Utilizzando degli strumenti che siano il più possibili efficaci, efficienti e soprattutto versatili. E vi vorrei vedere insieme a voi quelli che sono gli strumenti che io utilizzo quotidianamente. Il primo è un attacco a basso profilo che si chiama attacco OT Equator il quale ha nella sua grande semplicità ha una capacità fondamentale, una versatilità enorme perché questo piccolo attacco può essere utilizzato sia per protesi rimovibile su attacchi semplici quindi con la funzione di un semplice attacco ma allo stesso tempo noi possiamo utilizzarlo in associazione con l'elastic seeger che è l'anellino bianco che voi vedete sulla sinistra come vero e proprio abatment quindi si trasforma da attacco a vero e proprio abatment per sostenere ed ancorare una protesi su barra o una protesi fissa. Per quanto riguarda l'elastic seeger che è il cuore di tutta la struttura nella sua grande semplicità cioè quella di essere un piccolo anello in materiale plastico può essere in pec o può essere in acetalico bene dicevo all'interno della sua grande semplicità c'è invece una grande tecnologia considerate che è nato all'inizio del secolo e veniva utilizzato per bloccare le ruote dei binari dei treni esistono dei seeger interni e dei seeger esterni e mi sono divertito a valutare a guardare diciamo su vari siti quelli che sono i campi di utilizzo del seeger e ho trovato questa immagine questo è l'interno di un motore se voi vedete il seeger, quello giallo serve per accoppiare due strutture in maniera fissa e stabile ma quando ho visto questa immagine mi è subito venuta in mente una cosa cioè se io capovolgo l'immagine quello che io ottengo non è altro che il mio seeger dove la parte in basso è l'equator la parte in alto è la mia barra o comunque la struttura di rinforzo e il seeger è esattamente nella stessa posizione e blocca, accoppia, due strutture in maniera stabile e precisa l'altro aspetto su cui diciamo un caposaldo della mia attività è quello di avere delle basi solide perché se noi vogliamo costruire un bel castello dobbiamo avere anche delle basi solide quindi un impianto che mi permetta di avere una stabilità predecibile nel tempo la possibilità di fare carico immediato la possibilità di poter essere utilizzato anche in un osso di scarsa qualità elevate percentuali di successo e la possibilità, che non guasta mai di avere anche una superficie capace di ottenere di permettermi un'ostra integrazione in un tempo ridotto proprio perché arricchita di unicalcio a questo punto e il terzo aspetto, scusate è quello è la possibilità di previsualizzare il lavoro e questo lo trovo molto interessante molto importante soprattutto per quanto riguarda le riabilitazioni full art sia non se fisso rimovibili perché mi permette prima di partire di far vedere di far conoscere al paziente quello che sarà il risultato finale e all'occorrenza questa immagine quindi dalla semplice previsualizzazione io posso anche dopo aver scansionato il modello utilizzarla per realizzare un modello un lavoro un lavoro diciamo reale quindi passando dal fresatore un lavoro reale e quindi un lavoro che io posso consegnare una struttura protetica che posso consegnare al mio paziente vediamo quindi il primo aspetto cioè la possibilità e la versatilità di utilizzo dell'attacco equator come dicevo l'attacco equator può essere utilizzato come semplice attacco ritentivo esempio in questo caso questo è un paziente che si è presentato alla mia osservazione con due protesi totali superiore e inferiore questa è la situazione a livello del cavo orale come potete vedere a livello dell'arcata superiore era presente un'arcata bella conservata sia dal punto di vista dei tessuti duri che dei tessuti molli per cui è stato sufficiente ripristinare una nuova protesi rimovibile superiore a livello invece dell'arcata inferiore il paziente mi chiedeva maggiore stabilità maggiore ritenzione per cui ho inserito due attacchi a parso profilo T-equetor e T-equetor che ho inserito subito al termine dell'intervento quindi fondamentalmente ho caricato la protesi inizialmente la protesi preesistente del paziente che ho utilizzato come protesi provvisoria e successivamente ho realizzato una nuova protesi definitiva vorrei sottolineare come il fatto di posizionare da subito un attacco senza mai più svitarlo e sottolineo il fatto senza mai più svitarlo indipendentemente da quello che sarà poi la protesi che farò dopo che può essere una protesi rimovibile su attacchi una protesi su barra o anche una protesi fissa qualora io debba aggiungere altri impianti dicevo la possibilità di non svitare mai questo attacco mi permette il mantenimento a preservazione del sigillo biologico per implantare per cui come possiamo vedere i tessuti per implantare ne giovano notevolmente ne creano grande giovanento vediamo come si sceglie l'attacco a basso profilo più adeguato immaginate di avere un impianto con un tragitto trasmucoso esistono degli strumenti che si chiamano misuratori di bordo gengivale che vengono appoggiati alla superficie implantare poi è presente un repere un anellino in gomma che io faccio scivolare fino all'altezza del tessuto gengivale del margine gengivale e così potrò semplicemente in questo modo valutare l'altezza del tragitto trasmucoso più idoneo per quanto riguarda la protesi rimovibile vi consiglio di posizionare la spalla dell'attacco a livello del margine gengivale o al massimo 0,5 mm extra gengivale per quanto riguarda invece la protesi fissa lo vedremo dopo è meglio scendere invece all'interno del margine per circa un millimetro a volte anche un millimetro e mezzo per avere un migliore profilo di emergenza della protesi quindi andiamo avanti con il nostro caso dopo aver preso le impronte è stata fatta la registrazione dei rapporti intermascellari col vallo in cera vado molto veloce perché purtroppo non posso addentrarmi più di tanto visto il tempo a nostra disposizione comunque registrazione dei rapporti intermascellari la prova del gruppo anteriore quindi la prova estetica il sostegno del labbro la prova fonetica quindi le consonanti fricative per vedere quello che è la posizione degli incisivi per vedere il canale della S per valutare la dimensione verticale e nella foto di destra vediamo come i tessuti a questo punto vengono notevolmente sostenuti questo era un paziente che aveva anche una spina nasale rappresentata per cui il problema qui era abbastanza semplice da risolvere dopodiché abbiamo fatto la prova dei denti diatorici e all'appuntamento successivo la consegna della protesi questa è la protesi ultimata che viene poi consegnata al paziente dopo le opportune valutazioni a livello più usale questo è il risultato finale e adesso vediamo cosa ci dice la letteratura in questo articolo su Journal of Foreign Rehabilitation di Bowen viene descritto come la possibilità di ancorare una protesi ad attacchi o a impianti o alimenti radicolari permette un miglioramento della funzione masticatoria della qualità della vita del paziente un miglioramento della forza masticatoria che nel paziente portatore di protesi totali si riduce di circa il 50% e una riduzione dell'attività muscolare in condizioni di riposo questo perché l'attività muscolare in condizioni di riposo è minore perché la protesi è già di per sé stabile e non è quindi il paziente che deve con il modiro delle labbra andare a stabilizzare continuamente la protesi che la protesi proprio per la presenza dell'attacco è già di per sé stabile andiamo avanti con la letteratura e mi piace citare due articoli del nostro gruppo di ricerca che hanno valutato l'efficacia dell'attacco a basso profilo ti equeto per la realizzazione di protesi rimovibili mandibolari su due attacchi su due impianti e hanno dimostrato come l'overdentro mandibolare può essere considerata una procedura efficace e predecibile sicura e minimamente invasiva che dà delle percentuali di successo con un basso rischio di complicazioni e un'alta soddisfazione per il paziente poi vorrei sottolineare anche questo questo bel lavoro che ho condotto in collaborazione con REIN e quindi con il gruppo di ricerca di REIN e con l'università di Messina siamo andati a valutare questo studio lo ritengo veramente interessante siamo andati a valutare l'efficienza di due attacchi ovvero l'attacco OT Equator con la cappetta Smartbox con il contenitore Smartbox questo contenitore ha la capacità permette all'attacco Equator di correggere disparallelismi fino a 50 gradi tra gli impianti e è stato comparato al Locator RTX quindi la nuova versione del Locator che a quanto dice la ditta ha la capacità di correggere anch'essa disparallelismi fino a 50 gradi questi attacchi sono stati montati su un supporto e abbiamo simulato circa 5 anni di inserzioni e disinserzioni della protesi che corrispondono circa a 5000 cicli queste sono le strutture su cui noi abbiamo bloccato i nostri attacchi e la macchina INSTROM la macchina che si simula l'inserzione e la disinserzione che ha lavorato per 5000 cicli e andiamo a valutare insieme quelli che sono i risultati notiamo che sono state valutate e questo è un plus dello studio sono state valutate tutte le tipologie di cappetta ritentiva e abbiamo notato come tutte le campette si comportano fondamentalmente nello stesso modo cioè abbiamo un leggero decremento della forza ritentiva della tenuta del nostro attacco è un decremento pressoché costante e se voi notate la deviazione standard le deviazioni standard si mantengono sempre in numeri abbastanza bassi per cui significa che il comportamento di questi attacchi è molto predecibile nel tempo a differenza invece dell'attacco locator dove invece l'attacco locator in tutti i casi testati dopo solo 300 cicli abbiamo un tracollo un crollo enorme della capacità ritentiva dimostrazione del fatto anche che i valori di deviazione standard soprattutto per la cappetta bianca sono molto molto più alti questo ci ha portato a una pubblicazione che è diciamo è stata è uscita su Prostesis l'anno scorso e che ha dimostrato appunto questa maggiore performance dell'equator rispetto all'equator anche per disparallelismi fino a 50 gradi in questo caso venivano testati 10 gradi e 50 gradi di disparallelismo l'università di Messina ha condotto un altro studio sempre paragonando l'attacco equator e l'attacco locator uno studio molto 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 bello su analisi elementi finiti e l'ha paragonato a un moncone di controllo vorrei condividere con voi le conclusioni praticamente è emesso come proprio la forma e le piccole dimensioni e la morfologia dell'attacco equator permettono una distribuzione delle forze migliori ai tessuti circostanti quindi in grado di dissipare meglio le forze e di distribuire meglio le forze ai tessuti circostanti questo potrebbe essere responsabile di un miglioramento dei livelli ossei quindi di un miglior mantenimento dei livelli ossei per implantare sull'attacco equator proprio per questa capacità di dissipare meglio le forze e di distribuire meglio le forze in più notiamo come anche se di poco ma l'attacco equator ha una resistenza alla frattura superiore a quella dell'attacco locator andiamo avanti con la nostra valutazione a questo punto vorrei condividere con voi un ulteriore aspetto dell'attacco otiquator che è quello di trasformarsi da attacco a basso profilo a un abatment un abatment come può essere per esempio un multi unit abatment capace in questo caso di connettersi sostenere ed ancorare una barra per la realizzazione di una protesi rimovibile su barra vi vorrei condividere con voi questo caso che è apparso anche sul libro che è stato pubblicato da team da team media mi sembra sì qualche anno fa circa 4 anni fa e vorrei sottolineare come questa paziente che è venuta circa 4-5 anni fa la mia osservazione portatrice di due protesi totali dove dalle foto frontali e la foto a tre quarti viene evidenziato uno scarso sostegno della arcata superiore dei tessuti periolari ovvero dell'arcata superiore e un approfondimento delle rughe la paziente mi chiedeva questa è la situazione della panoramica che aveva effettuato circa un anno prima di venire alla mia osservazione circa 5 anni fa notate subito come ci fosse una notevole pneumatizzazione dei sieni mascellare dimostrazione che era presente soprattutto a livello dell'arcata superiore un grande riassorbimento a livello dei tessuti ossei quando invece come vedremo dopo a livello dei tessuti molli la cosa era un po' più era un po' diversa nel senso che avevamo una grossa quantità di tessuti molli a dispetto invece di tessuti duri quindi tessuto osse molto riassorbito la paziente era venuta prima per fare una protesi fissa inferiore io ho fatto una protesi una banale protesi toronto provvisoria nell'attesa che quando lei sarebbe stata pronta di fare la definitiva al momento della riabilizzazione dell'arcata superiore per anche motivi economici la paziente preferiva dilazionare il lavoro quindi ho fatto una banale una semplice protesi toronto inferiore provvisoria e quando è stato il momento ho fatto una ho iniziato la terapia a livello dell'arcata superiore come vedete nell'immagine a destra è presente una grossa quantità di tessuti molli fondamentalmente uno non si aspetta di avere considerando lo spessore di questa arcata non si aspetta di avere un risorbimento così importante mentre invece la che ci combine mostra un risorbimento a livello dei tessuti ossei dell'arcata superiore molto importante al punto che gli impianti più distali sono stati notevolmente tiltati verso distale e sono stati valutati da un punto di vista mediante un programma di chirurgia guidata questo proprio per cercare di arrivare il più distali possibili con l'emergenza dell'impianto proprio perché vista la pneumatizzazione del seno il diciamo il bordo anteriore del seno macellare arrivava come si vede fino alla zona del canino per cui ho cercato di tiltare il più possibile gli impianti distali in maniera tale da ampliare il più possibile il quadrilatero implantare così che potevo ridurre al minimo il cantilever a livello della zona anteriore invece come si può notare in questa immagine gli impianti soprattutto a livello del 12 l'impianto era molto sottile era un 3,5 comunque era un impianto che doveva essere inserito in un osso di diametro di spessore molto limitato vorrei fare una piccola precisazione per quanto riguarda visto che abbiamo parlato di impianti tiltati vorrei fare una piccola precisazione biomeccanica degli impianti posizionati a livello distale in questo bellissimo articolo di Brunski che valuta con un'analisi di elementi finiti la biomeccanica di una struttura protesica si evince come nel momento in cui io vado a tiltare gli impianti quindi a ridurre il cantilever a livello distale io non solo ho una minore compressione sugli impianti più distali e lo vedete nella tabellina il numero 1 e il numero 4 dove nel punto rosso io avrò una grande cantilever e impianti dritti nella zona azzurra io avrò degli impianti leggermente più tiltati un cantilever minore nel puntino verde invece io avrò un cantilever ancora più piccolo perché ho tiltato ancora gli impianti come notate nel punto 1 e 4 io ho una minore compressione a livello degli impianti distali quando io riduco il cantilever ma non solo anche a livello degli impianti più mesiali io ho una minore compressione ciò significa quindi che nel momento in cui io vado a tiltare gli impianti a ridurre il cantilever io non solo avrò una minore compressione a livello degli impianti distali ma anche una minore trazione a livello degli impianti più mesiali avrò un minore carico verticale a livello della struttura in estensione e avrò una minore flessione della barra nella zona del cantilever avrò un minore carico a livello della zona di connessione abatment barra e in più questo riportato anche dagli studi del fabbro negli impianti tiltati non è non è stato dimostrato un maggiore risolvimento osseo rispetto agli impianti dritti in più tiltare gli impianti come riportato agli studi di Malò mi permette di posizionare impianti più lunghi in osso di qualità migliore cercando di permettendomi di evitare strutture anatomiche importanti come il nervo mentoniero e il seno macellare a questo punto sorge una domanda quanti impianti dobbiamo mettere allora per quanto riguarda l'arca non è ben preciso in letteratura non c'è una consensus conference per quanto riguarda questo però se noi andiamo a valutare delle revisioni sistematiche della letteratura tipo questa di Rogebar viene dimostrato come a livello dell'arcata superiore parliamo di protesi rimovibili in questo caso che io vado a posizionare 3, 4 o più impianti la percentuale di successo implantare protegico non cambia a patto che io splinti questi impianti quindi non c'è una grossa differenza che io posizioni 4 o 6 impianti a livello di sopravvivenza implantare e protesica nel momento in cui invece non vado a splintare gli impianti come notate la percentuale di successo protegico e implantare cala di più del 10% quindi è consigliabile nel mascellare superiore qualora noi dovessimo fare delle protesi rimovibili connettere con una barra c'è un altro aspetto che però valuteremo dopo quindi non ve lo anticipo perché vorrei approfondirlo dopo comunque tenete in considerazione che nella maggior parte dei casi a livello dell'arcata superiore gli impianti è buona norma splintare tra di loro a livello dell'arcata inferiore invece lo stesso studio dimostra come una protesi rimovibile come è stato dimostrato dagli studi precedenti su ancorata due impianti quindi una protesi muco supportata ancorata due impianti in mandibola in una zona anteriore zona laterale canino circa permette è una procedura semplice sicura affidabile rappresenta il gold standard la possibilità di aumentare il numero degli impianti permette ovviamente anche un miglioramento della soddisfazione da parte del paziente torniamo al nostro caso questi sono gli impianti appena inseriti dopo circa 4 mesi facciamo una prova a montaggio una volta che la prova a montaggio è stata validata perché si passa sempre dalla prova a montaggio mi vorrei legare a quello che ha detto qualche settimana fa Alessio ha detto una verità assoluta cioè quella che il nostro montaggio è il primo passo indipendentemente che noi faremo una protesi rimovibile tradizionale una protesi rimovibile su bar o una protesi fissa nel momento in cui il montaggio è stato confermato il tecnico non farà altro che fare una mascherina così da avere la posizione dei denti nel momento in cui andiamo quindi a questo punto a realizzare la struttura a realizzare la struttura ci accorgiamo come era prevedibile c'è un grosso disparallelismo tra gli impianti più mesiali e gli impianti più distali disparallelismo che raggiunge e supera gli 87 gradi come vedete che infatti è 87,35 gradi e quindi ma noi sapevamo che saremmo riusciti a compensarlo vi faccio vedere come il montaggio è stato scansionato quelle che vedete sulla destra sono gli scan a Batman le immagini sono state e notate che tutti gli impianti rientrano all'interno della mia struttura protesica forse solo gli impianti zona 22 avevo una leggera emergenza vestibolare ma è stata tranquillamente compensata con la realizzazione della barra e qui vediamo in trasparenza il montaggio con la barra sottostante e il dettaglio della barra con la sezione della barra la presenza degli attacchi attacchi che devono essere posizionati dove dove io ho più spazio e quindi al di sotto dei denti ma è posizionare degli attacchi tra un dente e l'altro perché lì avrò minore spazio maggiore rischio di frattura e minore risultato estetico perché potrebbe trasparire la controbarra questi sono altri passaggi della realizzazione della barra a questo punto la barra è stata da virtuale quindi è stata modellata virtualmente e da virtuale è stata fresata e questa è una barra in cromo cobalto fresata al cabbie vedete che sulla sua superficie sono presenti delle filettature a livello delle filettature sono stati inseriti gli attacchi questa è la prova della barra e a questo punto vediamo come funziona l'attacco equator nell'immagine a destra vedete l'attacco equator che è quello dorato la struttura la barra che si appoggia all'attacco equator l'intercapedine tra i due viene colmata dall'elastic siger che come vi dicevo prima è il cuore di tutto il nostro progetto di tutto il nostro protocollo questo siger permette di bloccare in maniera stabile di creare un monoblocco funzionale tra equator e barra e allo stesso tempo mi dà un ulteriore grande vantaggio che mi permette di passivare l'intera struttura e vediamo come funziona la barra si va ad appoggiare all'attacco per cui io ho un appoggio metallo su metallo un contatto metallo su metallo il siger invece si va a posizionare nell'intercapedine che è questa piccola tolleranza che viene mantenuta e permette di correggere piccoli errori che ci potremo essere portati avanti durante la presa dell'impronta la collatura del modello e nel caso noi facciamo piccole imprecisioni anche per esempio dovute alla fusione o eventualmente anche al CAD una piccola imprecisione in questo caso l'equator permette di passivare l'intera struttura ma mantenendo vedete questo contatto metallo su metallo che quindi è quello che dà la rigidità a tutta l'intera struttura dicevo quindi il siger passivo alla struttura crea un monoblocco funzionale e la vite che vedete sopra che vediamo anche nell'immagine di sinistra in verità non tocca la barra perché se la toccassi non sarebbe più passiva la vite ha solo la funzione di mantenere in posizione il siger e di comprimerla sulle pareti circostanti andando a stabilizzare ulteriormente la struttura consideriamo che da studi emerso come l'80% della ritenzione della barra sia data dal siger mentre solo il 20% dalla vite in poche parole se io monto una barra montando i siger senza montare la vite non c'è possibilità di rimuovere la barra se prima non abbiamo rimosso il siger posso tirare quanto voglio ma la barra non si muove vi faccio vedere come funziona vediamo sulla sinistra il posizionamento degli equator e quello che chiamiamolo il vecchio siger quello che fino a qualche tempo fa veniva utilizzato che tutt'oggi ancora è presente che è un anellino molto piccolo in materiale acetalico sulla destra invece il nuovo siger che è in pecca che ha il vantaggio di avere una piccola scanalatura affinché la vite possa bloccarlo possa diciamo ancorarlo e semplifica l'inserimento e la disinserzione della struttura questo protocollo è stato validato scientificamente da un articolo che ho pubblicato insieme all'amico Giuliano Bonato e all'amico Luco Hortensi nel 2016 su Global Zone of Oral Science che dimostra proprio come il protocollo mediante il posizionamento di attacchi a basso profilo t-equator e elastic siger permette di creare un monoblocco funzionale con assoluta passivazione della struttura un altro studio in fase di pubblicazione questo molto molto interessante è uno studio multicentrico dimostra come la realizzazione di strutture rimovibili su barra mediante l'utilizzo di attacchi a basso profilo permette un miglioramento della qualità della vita del paziente permette un miglioramento dell'estetica della funzione masticatoria e quindi questo protocollo rappresenta un protocollo riproducibile sicuro ed efficace a questo punto è stata realizzata la controbarra la controbarra ho deciso di realizzarla grazie all'aiuto di Marco Ortensi che è un tecnico eccezionale l'abbiamo deciso di realizzarla al laser melting questo perché? perché il laser melting mi permette di creare delle strutture molto complesse vedete com'è complesse a livello di superfici e mi permette cosa che invece magari il CAD potrebbe avere qualche difficoltà legato ai gradi di libertà della fresa in più il laser melting mi dà una struttura più leggera e già ruvida che semplifica al tecnico l'adesione della resina quindi questa è la realizzazione della barra che viene provata io a quest'immagine io a quest'immagine sono particolarmente legato perché? perché quest'immagine a mio parere è la dimostrazione che anche una protesi rimovibile su barra se così ampia quindi se noi studiamo bene il posizionamento implantare e andiamo a creare una barra ben estesa bene dicevo una barra così ampia con uno due tre quattro cinque sei attacchi e una struttura anteriore presata a un grado mi permette di avere una struttura veramente stabile il paziente ha la sensazione di avere una protesi fissa ma con la mantenibilità igienica di una protesi rimovibile a mio parere questa qui è la Ferrari delle protesi superiori non è assolutamente da considerare una protesi serie B anzi questa a mio parere è una protesi di assoluta serie A perché veramente dà la percezione del paziente di avere una protesi fissa pur avendo la mantenibilità igienica e la semplicità non solo per il paziente ma anche per noi di detersione di una protesi rimovibile questa è la protesi ultimata se notate io ho mantenuto la fascia palatina perché perché come ha più volte anche descritto l'amico collega Luca Cortensi il fatto di mantenere una fascia palatina in fase di realizzazione riduce il rischio di deformazioni della struttura e al momento della consegna permette di avere un appoggio in più in una zona incomprimibile qual è quella del palato a questo punto quando va fatta e dove va fatta va fatta nella zona posteriore nella zona del primo molare circa perché se noi la facciamo nella zona dei premolari al paziente dà più fastidio perché è la zona dedicata alla fonazione dedicata al linguaggio mentre invece nella zona posteriore in genere non dà fastidio in più va fatta a questo livello perché ci andiamo a poggiare al palato duro e quando è che va fatta va fatta quando io non riesco a distalizzare notevolmente gli impianti per cui avrei un cantilever importante un rischio di insufficiente supporto a livello delle zone posteriori per cui un eccessivo carico a livello della barra fondamentalmente mentre invece se faccio una fascia palatina io ho una zona incomprimibile per cui vado a ridurre notevolmente il carico sulla barra in più si fa in quei pazienti che capiamo essere non proprio ligi tutti gli anni alla ribasatura della protesi vi dico la verità io in questo caso potevo benissimo non farla perché come abbiamo visto prima io ero riuscito a distalizzare molto gli impianti se notate scusate torno un attimo indietro se notate la mia protesi raggiunge diciamo l'ultimo impianto raggiunge la zona tra 5 e 6 per cui potevo benissimo evitarla perché non ho assolutamente ampi cantilevere ma l'ho mantenuta perché fondamentalmente l'ho provata alla paziente non dava fastidio e ho preferito mantenerla e questo è il risultato finale vi faccio notare anche un altro aspetto visto l'elevato numero di attacchi comincio sempre con attacchi a ritenzione più bassa qui vediamo 4 attacchi gialli e 2 attacchi verdi i primi attacchi che monto sempre sono quelli verdi perché i verdi sono degli attacchi verdi gommosi quindi hanno un'elevata resilienza sono attacchi super resilienti che mi permettono soprattutto a livello implantare di fornire al mio paziente un carico progressivo perché hanno una tenuta di circa 200 grammi e mi permettono quindi al momento in cui il paziente mastica di distribuire meglio il carico masticatorio perché hanno la capacità di cedere maggiormente quindi di dissipare meglio le forze poi piano piano questo serve anche per insegnare alla paziente ad inserirla e disinserirla perché capite che una protesi di questo tipo fatta al CAD con 6 attacchi bisogna avere anche una discreta forza nelle mani dopodiché piano piano vengono sostituiti io vi dico la verità in questa protesi non ho mai messo attacchi più ritentivi di attacchi gialli visto l'elevato numero di attacchi e altra cosa se le strutture sono fatte bene in particolar modo se sono fatte al CAD vi dimenticate praticamente di cambiare gli attacchi questa protesi l'ho fatta circa 4 anni e mezzo fa io in 4 anni e mezzo ho cambiato una volta tutti gli attacchi e una volta un attacco quindi fondamentalmente ogni anno e mezzo a questo punto è sorta una domanda ma se questa tecnologia cioè la diciamo l'utilizzo insieme dell'attacco a basso profilo T-equator e del Seeger funziona così bene nella protesi rimovibile perché non utilizzarlo anche in protesi fissa e nasce a questo punto il concetto di OT-bridge che vi faccio vi descrivo immaginiamo di posizionare 4 o più attacchi sui quali vado ad inserire degli attacchi a basso profilo T-equator faccio tutte le mie prove protesiche le mie valutazioni come fosse un qualunque altro ma qualunque altra protesi fissa full arch al momento della consegna vediamo come si comporta l'unione tra attacco a basso profilo e Seeger vedete il moncone ha una scanalatura dedicata all'interno del quale vado a posizionare l'elastic Seeger che sarà ripeto il cuore di tutto il nostro protocollo e avrà la capacità di ancorare la struttura all'attacco a basso profilo e nello stesso tempo passivarla il grande vantaggio che oltre ad avere una vite io ho anche un anello che mi permette quindi un Seeger che mi permette di stabilizzare la mia struttura questo permette di ridurre il numero delle viti poi lo vedremo di ridurre il numero delle viti di circa il 25% perché perché la protese è già di per sé stabile data la presenza dell'elastic Seeger e anzi dopo anni che realizzo questa tipologia di protesi anche rimovibile ma soprattutto fissa mi sono accorto che tanto più ovviamente l'impianto è disparallero e tanto migliore sarà l'efficacia e l'efficienza del mio elastic Seeger perché essendo l'attacco un attacco ritentivo con una componente di sottosquadro nel momento in cui vado a mettermi l'elastic Seeger la protesi è ancorata e non esce indipendentemente dalla presenza della vita e qui vediamo come funziona il moncone che si chiama moncone extra grade il moncone extra grade è dotato dicevo di una scanalatura che si chiama appunto sistema extra grade all'interno del quale viene inserito l'elastic Seeger abbiamo un sistema antirotazionale per cui l'elastic Seeger ha solo una determinata posizione e va orientato nella direzione del disparallelismo vedete infatti che il moncone ha una parte ovalare che è quella zona evidenziata in blu che va orientata nella direzione del disparallelismo ed è proprio responsabile della capacità di superare grandi disparallelismi parliamo di disparallelismi di circa 80-85 gradi e come vi ho fatto vedere prima nella barra 87,35 gradi e questo è come funziona quindi il moncone l'elastic Seeger inserito che supera l'equatore dell'attacco abbraccia l'attacco e dopodiché può essere o meno avvitata la vite a questo punto andiamo ho deciso di realizzare una protesi fissa alla paziente che avete visto poco fa che aveva la protesi provvisoria fissa inferiore ora il deck Claudio ha realizzato questo jig di prova che ci ha servito per confermare la posizione degli impianti e per confermare che tutti i monconi scendessero correttamente un altro vantaggio è che nel momento in cui ho i Seeger quando vado a provare qualunque struttura io sento un sonoro clac che è la dimostrazione che la struttura è scesa qui vediamo l'inserimento degli attacchi e il moncone extra grade orientato nella direzione del disparallelismo questo è il sistema extra grade la prova montaggio una volta che è stata confermata la prova montaggio Claudio non ha fatto altro che scansionare il montaggio della paziente e procedere alla progettazione virtuale alla modellazione virtuale della struttura struttura che è stata poi fresata questa è la struttura fresata che è stata poi montata e questa qui è la struttura la struttura provata e la protese definitiva protese definitiva che è stata poi montata e questo è il risultato finale vediamo la panoramica di controllo dove possiamo notare non solo i livelli ossei mantenuti a livello dell'arcato inferiore ma anche a distanza questi due lavori hanno circa due anni due anni e mezzo circa di distanza tra di loro vediamo anche come a livello dell'arcato superiore pur in un osso di spessore estremamente ridotto quindi sappiamo la grande difficoltà e il rischio di risolvimento osseo quando il tessuto osseo è poco spesso cioè abbiamo uno spessore ridotto attorno agli impianti comunque il mantenimento osseo è molto ben conservato soprattutto dove guardate impianti tiltati e vi vorrei far notare anche un'altra cosa guardate il vantaggio di avere degli attacchi dritti e non degli attacchi ingolati cosa significa a livello di profilo cioè io ho un profilo molto più lineare ho un profilo più piccolo non ho permettetemi in termini dei ginocchi all'interno dei miei monconi che rendono la struttura più difficile da detergere creano dei sottosquadri difficili da detergere ma anzi io ho una struttura molto lineare una struttura molto esile che è molto facile da detergere e come vedremo a mio parere porta grandissimi vantaggi al termine delle riabilitazioni full arch è mia consitudine fare una valutazione anche dal punto di vista muscolo scheletrico quindi dal punto di vista muscolare mediante un elettromiografo l'elettromiografo viene utilizzato in genere all'inizio della terapia per valutare il punto di partenza quando lo ritengo necessario anche durante la fase di montaggio comunque durante le fasi intermedie e soprattutto a livello della consegna finale perché mi permette di valutare come si comportano i muscoli con la protesi che io sto dando al paziente io faccio sempre l'esempio del maratoneta è come dare al mio paziente quindi al maratoneta le scarpe che gli permettono di correre per più tempo con meno fatica in maniera più efficace quindi al termine della riabilitazione vengono montati questi elettromiografi che mi permettono di valutare come si comporta la muscolatura con quel tipo di protesi in più mi permette di valutare se ci sono indirettamente ovviamente se ci sono dei precontatti se ci sono delle torsioni che posso immediatamente andare a correggere valutare immediatamente com'è il risultato al termine dei miei controlli occlusali e questo è il risultato finale vi dico una cosa carina le prime volte che facevo vedere questo lavoro mi chiedevano se la paziente si era fatta il filler a livello del labbro superiore perché vedete com'è sostenuto com'è turgido questo è l'effetto della flange che a mio parere non sarebbe stato possibile con una protesi di sé vi faccio vedere un altro caso questo è un caso molto complicato viste le caratteristiche della paziente questa è una paziente in terza classe con una grandissima discrepanza sia in senso sagittale sia in senso trasversale e purtroppo aveva un lavoro fisso che aveva eseguito per il suo altro studio non più tardi due anni prima e la paziente non voleva assolutamente rimuoverlo nonostante a mio parere soprattutto i denti diattorici fossero montati a mio parere male cioè troppo vestibolari per cui andava andava ulteriormente a peggiorare la discrepanza traccata superiore e inferiore facendo una panoramica ho evidenziato che c'erano altre problematiche c'era un frammento radicolare in zona 15 due elementi fratturati in zona 22 23 e una lesione apico-periapicale in zona 41 oltretutto al di sotto di un ponte come avete visto un ponte in zircona integrale che si era oltretutto anche discolorato la paziente non voleva assolutamente nessun tipo di protesi rimovibile perché questo è il classico caso da protesi rimovibile paziente in terza classe con un'elevata discrepanza sul piano sagittale e sul piano trasversale non c'è stato verso la paziente non voleva una protesi tipo rimovibile voleva una protesi fissa e allora come ho fatto ho estratto le due radici a livello 22 23 ho inserito un impianto in zona 22 e poi mi sono trovato davanti questi due belli incisivi centrali perfettamente sani che io ho trattato endodonticamente e ho sezionato a livello della cresta alveolare nel frattempo la paziente aveva un provvisorio dopo 4 mesi questa è la situazione vedete che a livello dei due alveoli dove ho sezionato le radici i tessuti molli si stanno chiudendo le due radici sono state chiuse a livello della gutta perco con una goccia di cimento vetri o numerico a questo punto questo protocollo praticamente è lo stesso che viene descritto da Salama su queste due pubblicazioni in cui fondamentalmente il concetto che c'era dietro era questo allora io dovevo fare una protesi fissa cosa che mi aveva chiesto la paziente la paziente era già in terza classe per cui avevo già una discrepanza sul piano soprattutto sul piano sagittale in questo caso se avessi estratto le due radici anteriori io avrei avuto un ulteriore appiattimento di questo profilo cosa che non mi potevo permettere per cui il mantenimento di queste due radici vedete ha permesso il mantenimento della bozza a livello degli incisivi per cui mi è stato più semplice non solo ottenere un'estetica migliore ma mi è stato più semplice proprio andare a ripristinare un rapporto di prima classe a livello degli incisivi perché io avevo un tessuto più vestibolare più anteriore cosa che altrimenti sarebbe stato necessario creare una balconata impossibile da mantenere dal punto di vista igienico e esteticamente brutta perché avremmo avuto un labbro a livello dell'angolo nasolabiale poco sostenuto e un labbro invece sostenuto a livello del margine cosa che non ci potevamo permettere sono stati inseriti gli attacchi a basso profilo anti-equator sono state prese le impronte fatte la prova a montaggio Claudio a questo punto ha scansionato il montaggio e ha modellato la struttura al CAD questa è la modellazione della struttura e in questo caso la struttura mentre prima scusate non ve l'ho detto mentre nella paziente di prima la struttura è stata incollata ai monconi extra grade per cui è stata fatta la struttura digitale la struttura al CAD che è stata incollata ai monconi quindi con la tecnica per incollaggio in questo caso invece al CAD abbiamo realizzato anche i monconi extra grade e questa è la struttura e vedete il perfetto accoppiamento che c'è tra gli equator e la struttura questo è quello che voi percepite quando andate a provare in bocca al paziente la struttura avvertite un sonoro clac che è la dimostrazione che la struttura è scesa perfettamente e che quindi tutto torna dopodiché Claudio ha rivestito tutto in composito quindi gengiva rosa in composito e denti in composito che ha poi caratterizzato vi faccio notare una cosa vado un attimo indietro se notate l'impianto in posizione 24 che era diverso da questo che era diverso da questo che era diverso da questo qui avevamo due impianti esagono esterno da 4 mm qui avevamo un impianto esagono esterno il cui esagono era da un esagono piccolo un esagono da 3,25 e qui invece avevamo una connessione lobata interna vedete quindi già il fatto di gestire impianti di marche diverse questo perché è possibile perché nel momento in cui io riconosco la linea implantare e se non la riconosco basta prendere il moncone e spedirlo alla ditta e viene realizzato di conseguenza il moncone l'equator adeguato o comunque viene riconosciuto la linea implantare quindi non solo io posso trattare impianti di marche diverse ma nel momento in cui io vado a montare l'equator lavoro con gli stessi materiali cioè indipendentemente dalla linea implantare perché io lavoro sull'attacco quindi immaginate di dover comprare degli attacchi MUA io avrei dovuto comprare il MUA per questi attacchi per questi impianti il MUA per questo impianto il MUA per questo impianto perché non è detto che i MUA siano tutti uguali tra di loro nel momento in cui vado a unificare le connessioni con l'equator questo è molto più semplice in più io ho questo impianto molto vestibolarizzato andiamo avanti vi faccio vedere la protesi finita che a livello della zona del 24 non c'è la vite non c'è la vite io ho l'attacco ho diciamo il moncone ma non c'è la vite perché? perché io qui ho il mio sig che mi blocca la struttura quindi ho viti tre impianti e qui non ce l'avrò perché non ce l'avrò perché in questo modo io posso avere intanto un risultato estetico nettamente superiore che non ho fuori per cui sicuramente esteticamente è molto più bello in più da un punto di vista meccanico è meglio perché ho delle strutture pieni il dente è pieno non ho un foro che mi permette il passaggio della vite per cui è anche un vantaggio dal punto di vista meccanico e questa è la protesi terminata e caratterizzata questa è la situazione di tessuti molli dopo qualche mese dal diciamo al momento dell'inserimento della protesi definitiva vedete come i tessuti a livello degli incisivi si siano completamente chiusi questo è il lavoro ultimato montato questo è la differenza di situazione tra la paziente senza protesi e la paziente con la protesi vedete come è cambiato il profilo non solo siamo andati a sostenere questa zona scusate ma siamo andati anche a ridare un profilo migliore di quello che la paziente aveva in origine e questo è il risultato finale questa è la panoramica di controllo finale anche in questo caso abbiamo fatto una valutazione muscoloscheletrica una valutazione muscolare che dimostra come questo protocollo e questa protesi sia perfettamente bilanciata nella bocca di questo paziente e l'elettromiografo a mio parere in questi casi si comporta un po' come una bussola mi dà una mano mi dà un'indicazione sul percorso che sto facendo e mi dice quelle che sono le modifiche che devo fare e mi dà una dimostrazione diretta di quello che è il mio risultato dal punto di vista muscolare vi faccio vedere anche questo caso piano piano aumentiamo la difficoltà questa è una paziente di 74 anni che si è presentata alla mia osservazione con una situazione pressoché permettetemi quasi disperata con questo 36 fratturato i denti molto abrasi fortemente abrasi e una dimensione verticale estremamente ridotta che doveva essere ripristinata e vi faccio notare anche come questa paziente sia una paziente lo vediamo dal trofismo della muscolatura una paziente che ha una forza masticatoria importante questi occhiali servono come vi ho fatto vedere all'inizio per previsualizzare un ipotetico montaggio io ho utilizzato questo programma unicamente in questo caso scusate per previsualizzare alla paziente il lavoro che lei ovviamente che lei ha fondamentalmente approvato ed è stato quindi dal punto di vista di comunicazione col paziente molto importante vorrei fare con voi un piccolo escursus sulla necessità spesso soprattutto in pazienti come questi sono pazienti che hanno un elevato truffismo muscolare la necessità di fare l'importanza di fare una teleradiografia questa non è la paziente che abbiamo visto adesso ma io lo voglio mettere come esempio è importante la teleradiografia dal punto di vista protesico perché mi permette di valutare l'angolo mandibolare perché l'angolo mandibolare è direttamente correlato con la forza masticatoria esercitata dal paziente come pubblicato su questo articolo insieme all'amico Marco Martini Luca Ortensi e Gabriele Galassini in cui siamo andati a valutare la correlazione che c'era tra l'angolo mandibolare e la forza masticatoria in poche parole noi possiamo distinguere tre tipologie di pazienti brachifacciale mesofacciale e dolicofacciale allora fondamentalmente riassumendo perché non ci possiamo dilungare più di tanto ma il paziente che è un campanello di allarme per noi è il brachifacciale perché questo paziente è capace di sviluppare forze importanti e la forza masticatoria è correlata alla morfologia cranica quindi aspetto muscolo-scheletrico all'età al sesso al supporto parodontale e alla presenza di alterazioni temporomandibolari c'è un bellissimo articolo di Buck e Morton che dimostrano che dimostrano come la mandibola che sono articoli un po' datati ma ancora secondo me molto molto validi come che la mandibola si comporta come una leva di terzo tipo e all'aumentare dell'angolo mandibolare la forza masticatoria si riduce passando questo è un articolo infatti in vitro da 90 a 120 gradi la forza masticatoria si riduce di circa il 40% per cui è importante valutare diciamo l'angolo mandibolare del paziente che all'inizio se vi posso dare un consiglio lo valutate con la telerodiografia poi dopo un po' di esperienze riuscite anche individuare in base alla palpazione dell'angolo mandibolare alla palpazione della muscolatura individuare quello che è il paziente il paziente bracchifacciale perché questo come dimostrato in un articolo di Bonat-Karian nel paziente square cioè nel paziente bracchifacciale noi possiamo vedere forze masticatori fino a 900 N ovvero circa 90 kg e questo considerate voi amici odontotecnici è molto importante perché in questi pazienti voi dovete fare dei connettori più spessi strutture più spessi quindi sfruttare al massimo lo spazio che avete a disposizione per la vostra struttura e ovviamente anche selezionare il vostro materiale perché non potete fare su un paziente bracchifacciale delle strutture per esempio in cibi di carbonio dovete fare del metallo ma neanche della zirconio io farei quindi è importante perché noi dobbiamo essere nel nostro piccolo dei piccoli ingegneri cioè valutare il carico l'ingegnere quando crea una struttura la prima cosa che chiede è quanto è il carico che questa struttura deve sostenere allora io non vi dico che voi dovete sapere al chilo preciso quanto sviluppa quel paziente però dovete essere in grado di capire se quel paziente è un paziente campanello di allarme cioè bracchifacciale ovvero forte masticatore importante o all'opposto un dolico facciale che invece ci permette di fare delle licenze protesiche importanti cioè ci permette di realizzare strutture più esili di ridurre il numero degli impianti o ritornando all'articolo di cui vi dicevo prima in un mascellare superiore se io posiziono quattro impianti a un paziente d'olico facciale posso permettermi di non spuntare gli impianti perché mentre il paziente normo sviluppa circa 400 400 newton ovvero 40 kg il paziente d'olico sviluppa 250 250 newton ovvero 25 kg cioè praticamente la metà e quindi sono valutazioni che noi dobbiamo valutare non solo per quanto riguarda la parte protegica ma anche per quanto riguarda il numero e la disposizione dei miei impianti perché nel dolico posso fare cantilever nel brachio facciale ridurre al massimo il cantilever ve lo dico perché questo è un paziente brachio facciale che ho incontrato nella mia vita a cui io ho messo gli impianti era un paziente di un collega a cui il collega ha fatto la protesi notate come l'angolo mandibolare sia estremamente acuto 114 gradi questo è un impianto io ho fatto due impianti circa 6 mesi prima 6 mesi prima scusate ho detto una sciocchezza avevo fatto gli impianti 6 mesi prima della consegna della questa lastra è stata fatta 6 mesi dopo la consegna della protesi io avevo fatto gli impianti 10 mesi prima quindi l'inserimento degli impianti si attende la nostra integrazione per 4 mesi 6 mesi prima viene consegnato questo lavoro il paziente mi chiama il collega mi chiama perché aveva fatto una lastra ai denti vicini mi dice guarda sta fallendo l'impianto io ho detto guarda la prossima volta vengo e diamo un'occhiata la volta dopo valuto il paziente controllo il paziente e mi accorgo che questo è un ponte in zirconi integrale cosa che io sinceramente non ho un'opinione mia cerco di evitare sugli impianti in zirconi integrale 1002 cerco di evitare sugli impianti con una struttura troppo dura per gli impianti in più a livello del 4 c'era un precontatto rimuovo il precontatto non è magia ma un mese dopo vediamo che l'osso attorno all'impianto si rimineralizza questo perché come è riportato dallo studio di Isidor nel momento in cui il carico masticatorio determina delle micro fratture a livello della faccia della faccia impianto tessuto osseo e queste micro fratture superano la capacità di rimodellamento osseo io avrò nel tempo una perdita di osteointegrazione è sufficiente ridurre il carico e l'osso si rimineralizza in più io cosa ho fatto ho rimosso il ponte ho montato sul cricchetto dinamometrico il montatore dell'impianto la chiave del cricchetto dell'impianto e ho girato in senso opposto quindi per svitamento 25 N l'impianto era stabile per me era sufficiente quell'impianto era stato recuperato e attualmente l'impianto è ancora lì veniamo alla nostra paziente la nostra paziente voleva ridurre al massimo il traumatismo ho deciso dopo aver fatto una tele con BIM una TC con BIM di fare chirurgie guidate questa è sono le mascherine R2Gate Megagen le quali vengono posizionate stabilizzate con due pin vedete sulla sinistra il progetto protesico vediamo sulla destra la mascherina inserita questo è il montatore dell'impianto e l'impianto che viene inserito a livello due impianti a livello della zona anteriore un impianto a livello del terzo quadrante perché? perché come adesso vedrete a livello del quarto quadrante la paziente aveva già tre impianti li intravedete quelle tre viti di guarigione che erano tre impianti a me sconosciuti che poi ho capito essere impianti di 15 anni fa Frialit quindi una linea implantare che io non uso ma è stato sufficiente conoscere la linea implantare io fondamentalmente ho svitato i monconi li ho spediti a Rene e loro mi hanno dato gli equator di conseguenza dopo che io ho definito l'altezza trasmucosa a questo punto io cosa ho fatto? dopo aver inserito gli impianti in zona anteriore a livello del terzo quadrante ho svitato le viti a livello degli impianti nel quarto quadrante e ho inserito e ho inserito gli attacchi equator un vantaggio è che gli impianti che uso io N1 hanno la caratteristica di avere tutti la stessa connessione dipendentemente dal diamante per cui io mi sono premunito di questo piccolo kit dove ho tutte le altezze dell'attacco equator io sceglierò di conseguenza non è necessario sapere di più perché tanto tutte le connessioni sono uguali per cui alla fine intervento dopo aver posizionato gli impianti non faccio altro che rimuovere la mascherina e montare le equator di conseguenza in questo caso ho montato un impianto in zona 16 due impianti in zona anteriore 12-22 la paziente aveva due impianti qui mi fermo un attimo scusate e aveva già due impianti a livello del secondo quadrante che come di sotto ho come livello dell'arcata inferiore ho rimorso la vite di guarigione ho inserito gli attacchi equator che ho sfruttato perché questi impianti erano stabili tessuto gengivale per implantare era di buona qualità non era presente sondaggio patologico per cui visto anche che la paziente aveva 74 anni ho preferito evitare chirurgie particolarmente traumatiche a questo punto perché ho fermato il filmato perché Claudio mi aveva fatto un duplicato diciamo una protesi trasparente che è stata utilizzata scusate è stata utilizzata per la presa dell'impronta per la presa dell'occlusione della dimensione verticale sviluppato il modello e a questo punto sono stati montati dei monconcini che hanno la caratteristica di avere non solo l'alloggiamento per l'elastic sealer qua sotto ma anche due sono un attimo indietro ma anche di avere due piccole scanalature all'interno del quale è possibile inserire un filo in titanio un filo in titanio intrecciato che per protocollo mio di Claudio andiamo a rinforzare ulteriormente con un composito rinforzato in fibre di carbone per dare un core più resistente questa è la situazione di guarigione dopo 24 ore e dopo 24 ore abbiamo consegnato il provvisore questo è un metodo semplice efficace per la realizzazione di un provvisore in maniera veramente molto veloce e questo è in tempo reale sottolineo in tempo reale quello ovviamente il video è un po' velocizzato ma non è stato tagliato quello che è stato fatto per la consegna la paziente avevamo la fortuna che avesse un'occlusione veramente stabile infatti sono state montate le protesi e nel momento in cui le montate sentite un clac la protesi vedete è già di per sé stabile io non devo tenerla con le dita perché la protesi ha già fatto clac sui sigli dicevo è stabile avevo un'occlusione stabile perché adesso io ritocco l'occlusione questo è proprio il primo passaggio di ritocco dell'occlusione è stato ritoccato solo il 33 e basta e questa è stata una grossa fortuna e questo è il provvisorio quindi rivediamo sulla sinistra i monconi con la possibilità di inserire questi fili in titanio la situazione finale il provvisorio e il provvisorio consegnato al termine dell'intervento a scopo unicamente di valutazione postchirurgica a scopo didattico diciamo ho valutato con una comdim il posizionamento implantare dopo averlo vedete la precisione assoluta del posizionamento implantare con la mascherina di chirurgia guidata e questa è la teleradiografia la panoramica di controllo vi rifaccio notare una cosa che lo valuteremo anche dopo guardate il profilo esile di questi attacchi che praticamente mi annulla la necessità perché è impossibile che succeda di dover utilizzare un un buon profiler perché? perché l'attacco è più piccolo della dimensione dell'impianto stesso in più l'attacco è lineare è dritto non ho curve per cui io potrò evitare di utilizzare un buon profiler in più non avendo la connessione non ho bisogno di orientare la connessione perché l'acqueta non ha una connessione per cui io lo inserisco fine molto molto semplice questo e non fa mai male semplificarsi la vita questo è il montaggio della protese definitiva Claudio a questo punto ha realizzato in cera la struttura che poi ha fuso questa è la struttura la struttura realizzata sui munconi è stata in cera sui munconi extra grade che è stata poi fusa qui Claudio ha cercato di ridurre praticamente a zero il cantilever e di sfruttare al massimo lo spessore possibile per dare il maggiore rinforzo possibile a questa struttura questa è la struttura inferiore questa è la struttura ma queste sono le strutture inferiori quella di prima è la struttura superiore per quanto riguarda questo attacco qui abbiamo deciso di non montare la vite ma anzi di utilizzare un muncone che fosse orientato verso il vestibolare per ridurre vedete come è minimo l'ingombro a livello della cresta per ridurre il minimo l'ingombro questa pazienza protesi superiore ultimata protesi inferiore ultimata e vedete questo è l'alloggiamento dei siger che vanno orientati verso la direzione del disparallelismo ma fondamentalmente questi impianti erano paralleli tra di loro e questa è la consegna della protesi definitiva stata valutata dal punto di vista occlusale e mi voglio di nuovo soffermare sul fatto che non ci sono cantilever e mi vorrei di nuovo soffermare su questi attacchi veramente a profilo molto molto sottile questi attacchi al momento della panoramica erano già in funzione da più di nove mesi perché la paziente ha aspettato un po' perché ha avuto problemi di salute con il provvisore in bocca poi abbiamo realizzato il definitivo e questa è la panoramica fatta circa un mesetto dopo la consiglia del definitivo tra una cosa e l'altra sono passati nove mesi e però i livelli OSIS sono mantenuti in maniera veramente eccezionale è una cosa che sto insieme al gruppo di ricerca REN sto valutando e sto studiando e questo è il risultato finale risultato finale che se comparato con il punto di partenza abbiamo fatto un bel po' di strada vi faccio vedere l'ultimo caso questo è il babbo di un mio carissimo amico che aveva una situazione vedete sorride praticamente pochissimo e il fatto che questo baffo ci aiuta molto ci aiuta molto perché non abbiamo fondamentalmente il problema del sostegno del labbro anche se in questo caso problemi di sostegno del labbro non ne avevamo perché vedete che questi denti lo vedete anche dall'immagine scusate durante il sorriso questi denti fondamentalmente erano poco esposti erano poco esposti erano piccoli fondamentalmente qui avevamo avuto una leggera erustione dovuto il fatto che erano parodontali parodontopatici in più erano fratturati è stata fatta una combina vedete lo spessore valido a livello della zona anteriore è praticamente assente a livello delle zone posteriori io ho progettato di posizionare 5 impianti uno a livello del sesto l'altro a livello del 16 del 26 uno a livello del canino uno a livello del centrale qua non è stato possibile posizionare gli impianti perché a livello del canino come si vede aveva una grossa atrofia ossa una grossa lesione che mi aveva fatto perdere la parete vestibolare a livello del laterale avevamo un laterale molto vestibolarizzato per cui al momento dell'estrazione avevamo dei scienzi importanti ho preferito creare un poligono di 5 impianti piuttosto che di 6 questa è la situazione vedete i monconi sono anche fratturati che sono stati estratti ho deciso ho preferito fare questo intervento permettetemi di dire a mano libera perché volevo valutare bene dove era presente osso perché ad esempio in questo caso a livello del primo quadrante l'impianto è stato posizionato nel setto presente tra distale e il 3 fondamentalmente distale e il canino perché a livello del canino non era presente anche in questo caso una sufficiente quantità di osso e questo è il posizionamento implantare post post la combi in post operatoria anche in questo caso il provvisore è stato realizzato utilizzando questi monconi molto furbi che permettono il posizionamento di un filo in titanio premetto che noi possiamo benissimo utilizzare se volete ho anche la foto se volete vedere comunque possiamo benissimo utilizzare anche un provvisorio monconi extra grade è un semplice barra fusa per la realizzazione di un provvisorio o addirittura possiamo anche montare le monconi extra grade i classici monconi da definitivo bloccati tra di loro da delle barrettine che poi vengono saldate tra di loro o incollate tra di loro in maniera molto semplice per fare il provvisorio premetto che queste sono tutte strutture indicate per fare un provvisorio non per fare un definitivo ovviamente perché questa struttura in metallo che mi permette di rinforzare il provvisorio di dare ovviamente quindi nei momenti in cui è rinforzato di dare uno spessore minore al provvisorio con un grande vantaggio di comfort per la paziente e di diciamo di caricare gli impianti in maniera omogenea però comunque non saranno mai non permetteranno mai una solidarizzazione una resistenza sul lungo periodo come quella dei lavori delle strutture definitive quindi è stato fatto un montaggio da Claudio Claudio poi ha fatto una mascherina in questo caso anche in questo caso la struttura è stata rinforzata in questo caso non è stato utilizzato come in altri casi come nel caso precedente un composito duale rinforzato in fibre ma questo è un composito il composito dedicato per il rinforzo delle strutture o per l'incollaggio di strutture metalliche tra di loro o T-Cem che tra l'altro ho avuto il piacere anche di valutare qualche anno fa di recensionare qualche anno fa a livello di stabilità e di tenuta per quanto riguarda le cappette all'interno di una barra e quindi diciamo questo cemento mi dà un core più resistente una struttura più resistente che poi viene ricoperta da resina e utilizzati gli denti di montaggio noi siamo soliti utilizzare i denti da definitivo anche per i provvisori quattro strati in PMMA per dare comunque sin da subito un buon risultato estetico questo è il provvisorio e vi faccio notare anche un'altra cosa non utilizzando dei MUA e non utilizzando dei MUA angolati io praticamente potrò inserire le stesse viti cioè le viti che si vanno ad avvitare sull'equetro ma notate la differenza tra una vita di un MUA e una vita che si inserisce sull'equetro queste viti sono più grandi e io queste viti posso stringere a 20-25 N contro i 10 massimo 12 N delle viti dei MUA cioè questo io restringo col cricchetto fondamentalmente a differenza delle viti da MUA che le devo stringere la mano questo è il provvisorio ultimato che viene poi montato in bocca al paziente vedete che qui ci sono ancora i punti questo provvisorio è stato montato 48 ore dopo l'intervento dopo 4 mesi questo è lo stato di guarigione i tessuti molli guardate come i tessuti molli sembrano aderire in maniera veramente sicura e sana permettetemi il termine a questi attacchi a basso profilo e forse proprio le dimensioni mi permettono di mantenere una grossa quantità di tessuto molle guardate lo spessore di tessuto molle che ho sempre attorno a questi attacchi e la grande quantità di gengiva cratinizzata che non fa mai male per il mantenimento a lungo periodo di queste tipologie di protesi dopodiché sono stati montati i transfer pick up bloccati tra di loro con un filo interdentale e io utilizzo non utilizzo la resina non utilizzo il composito fotopolimerizzabile perché mi dà più garanzie di stabilità appena fotopolimerizzato per cui non ho rischio di contrazioni al momento in cui è stato rimosso dalla bocca questa è la struttura che Claudio ha realizzato allora visto che mi trovavo di fronte a un paziente che se notate non aveva le caratteristiche di un paziente brachifacciale era un paziente normofacciale abituato ad avere una protesi rimovibile superiore con un medio-basso trofismo a livello della muscolatura se vi ricordate aveva un profilo abbastanza lineare per cui ho preferito in questo caso utilizzare una struttura in fibre di carbonio andava benissimo anche il metallo andava benissimo anche il metallo ovviamente la struttura in carbonio la dovete utilizzare solo in quei pazienti in cui pazienti non brachifacciali in pazienti in cui evitate vedete qualunque tipo di cantilever e dove date lo spessore massimo alla struttura perché il vantaggio di questa struttura è che la posso molto facilmente pur essendo nera la posso molto facilmente mimetizzare quindi migliorare l'estetica con una vernice opaca e ha la caratteristica di essere veramente molto leggera ed efficace dal punto di vista del carico crusale perché le fibre vengono intracciate 90 gradi l'una sull'altra e mi permette un'ottima distribuzione dei carichi come dimostrato dagli studi di Vallittu degli primi anni del 2000 bene Vallittu ha fatto numerosi studi sulla fibra di vetro sulla fibra di carbone e dimostrato come questi siano materiali in isotropi il cui carico dipende dall'orientamento delle fibre e che permette una cosa importante una dissipazione delle forze estremamente interessante in una struttura rigida quale quella implantare questo è il lavoro ultimato che viene poi montato in bocca e vi faccio anche in questo caso notare lo stato di salute dei tessuti molli questo è il lavoro finito i pori che sono stati chiusi a livello dell'arcata inferiore mancano i molari perché il mese fondamentalmente il mese successivo alla consiglia di questa protesi al paziente ho messo due impianti purtroppo non sono potuti andare avanti per il problema del coronavirus perché se no avrei avuto anche la foto definitiva con i molari inferiori e questa è di nuovo la panoramica e questi impianti sono in funzione da 8-9 mesi e guardate anche in questo caso nonostante l'esiguo quantità di osso e sappiamo bene ripeto le problematiche quando io ho poco osso che posso avere una perita osso dovuta all'esiguo spessore alla sofferenza ossa per implantare ma in questo caso anche il livello osso si è mantenuto a mio parere per due motivi il primo per una connessione conica quindi un platform switching molto ben rappresentato connessione conica sicura efficace testata che quindi mi riduce al minimo l'entità dell'assoviamento e questo platform switching è esacerbato è potenziato dal profilo dell'attacco equator che addirittura è più sottile dell'impianto stesso e ha pareti paralleli e dopo ormai dieci anni di utilizzo dell'attacco equeto per protesi fisso per protesi rimodibile sto sempre più valutando il concetto ma ripeto è un concetto mio che nasce dalla mia esperienza non voglio non voglio che venga frainteso il mio concetto però dopo anni di esperienza mi sto accorgendo che probabilmente un attacco di così piccole dimensioni a pareti parallele quindi non convergenti come un MUA ma a pareti parallele dia più spazio ai tessuti molli dia e vada a incrementare ulteriormente il platform switching non solo a livello del collo implantare ma anche per tutta la lunghezza del moncone in più dando più spazio ai tessuti molli è un po' il concetto che va adesso permettetemi il paragone della BOPT cioè monconi più piccoli per dare più spazio ai tessuti molli e mi sono divertito a prendere da internet un MUA e a prendere il corrispettivo OT Equator se io li sovrappongo vedete a parità di dimensioni dell'attacco Equator l'Equator è molto più sottile io non ho questi ginocchi che possono rendere difficile la detersione della protesi se noi andiamo a valutare varie tipologie di MUA dritto addirittura che in genere è il MUA più stretto più piccolo mi accorgo che nella stragrande maggioranza di casi perché devo ammettere non sempre ma nella stragrande maggioranza di casi un attacco Equator ha una larghezza a livello del collo che è 3,5 mm contro i classici MUA che vanno da 4,5 a 4,8 per cui questo molto probabilmente qualcosa influenza a livello dei tessuti molli e questo è un caso clinico che io ho terminato qualche anno fa dove sopra ho fatto una protesi a barra e sotto una toronto e vediamo come il profilo degli impianti con il MUA il profilo scusate dell'Equator sia lineare di fra dei MUA che invece hanno sempre questi angoli repentini che possono potrebbero causare non ho detto che causa potrebbero causare qualche problema piccolo escurso su come si comporta l'Equator nel tempo oltre a tutti gli studi che abbiamo visto prima sull'attacco Equator abbiamo condotto uno studio multicentrico che ha paragonato tra loro attacchi Equator singoli attacchi Equator sprintati tra di loro con una barra attacchi a pallina attacchi a sfera e Locator da qui è emerso che la protesi rimovibile l'overdent permette un miglioramento della funzione della forza masticatoria abbiamo risultati migliori per gli impianti sprintati perché abbiamo un minore di complicanze e dal nostro studio è emerso che il Locator anche se di poco ma presenza un maggior numero di complicanze un bellissimo studio dell'amico dottor Martinolli ha dimostrato come a 5 anni il protocollo Oti Bridge sia un protocollo sicuro efficace stabile predecibile che permetta un successo implantare il protesico a livello mandibolare e a livello mascellare estremamente elevato ricerche future stiamo conducendo insieme a Claudio De Angelis e a tutto il gruppo di ricerca RAIN questo studio in cui noi stiamo valutando l'efficacia dell'attacchi Equator sottoposto a carico masticatorio di 250 Newton quindi simulando il carico di un paziente dentulo in un caso sottoponendo un carico in elementi dentari montati in cresta nell'altro caso in elementi dentari non montati in cresta per vedere se ci sono delle differenze a livello di usura dell'attacco è un altro studio che stiamo proprio ultimando è uno studio multicentrico dove tutti noi diciamo medici che odontoriatri che collaborano con RAIN e che si occupano di protesi fissa stiamo raccogliendo tutti i nostri casi per fare uno studio multicentrico sull'ottibris che sta dando in anteprima dei risultati molto molto vari bene io ho concluso vorrei sottolineare una cosa che in un periodo così difficile a mio parere stiamo dimostrando una grande resilienza una grande forza che secondo me molti di noi non pensavano neanche di avere e a mio parere dobbiamo essere fieri di questa cosa perché la stiamo affrontando bene come diceva Sergio Marchion a volte dovremmo vergognarci meno di essere italiani perché stiamo facendo veramente una grande cosa io vi ringrazio questa è la mia mail potete contattarmi quando volete e sulla destra vedete invece il sito dove potete scaricare i webinar registrati grazie a tutti